Allora, professor Mininno, settimo anno con oltre Babele per la quindicesima edizione della Mira del Libro, ormai è una continuità importante? Hai detto bene, Mimmo, è una continuità crescente, è l'esempio tangibile di cosa significa fare rete. Fare rete promuovendo cultura, perché la nostra città ha bisogno di promozione culturale per la formazione della persona, per la formazione del cittadino, per la formazione del professionista, perché questi valori concorrono alla crescita della città e del territorio, l'unità sociale, culturale ed economica. Ecco, quindi stiamo percorrendo insieme agli enti territoriali, quale è il pubblico, la regione e la scuola di Cereniora, la strada maestra e la strada che porterà sempre più i giovani a promuovere cultura, ad essere essi stessi promotori di cultura, generatori di cultura.